quando si parla di caschi sorge sempre un dubbio amletico sicurezza o comfort un dubbio legittimo visto che si parla della nostra testa e che si traduce in casco jet o integrale beh nolan 23 anni fa aveva già trovato una soluzione di compromesso a questa domanda con l'n100 il primo modulare della storia e oggi 23 anni dopo appunto di strada ne abbiamo fatta e il gruppo propone la sua ultima novità nel segmento con l'xlite x 1500 ultracarbon protagonista del nostro ride style ve lo mostro facciamo insieme l'unboxing di questo casco che porta in dote alcune novità ma anche tecnologie ormai consolidate nella gamma del gruppo e allora iniziamo scoprendo questo nuovo modello dall'esterno il casco ha infatti doppia omologazione pj e soprattutto un'apertura ellittica brevettata che permette di viaggiare anche con la mentoniera aperta riducendo l'effetto vela si blocca dall'apposito tasto laterale e si apre con il sistema brevettato dual action che evita movimenti accidentali naturalmente per il massimo della sicurezza è meglio viaggiare in configurazione integrale visto che questo modello è omologato sia come jet che come integrale guardando poi il casco e sapendo che è un modulare sappiamo anche che il suo tallone d'achille potrebbe essere il peso per questo xlite ha scelto di inserire nel mix di fibre composite che compongono la calotta tanto carbonio e a proposito di calotta ce ne sono tre per le otto taglie a disposizione questo per rendere il look più aerodinamico ma anche per assicurare un maggior assorbimento degli impatti e contenere il peso che nella taglia m è di 1700 grammi abbiamo parlato di novità che agli occhi più attenti sono già visibili ad un primo sguardo come la visiera che è ultra wide con il sistema di regolazione del pillock è un importante aumento della visibilità laterale e anche il sistema di ventilazione è stato rivoluzionato la presa d'aria sulla mentoniera è stata ridisegnata è più larga e soprattutto di facile azionamento così come quella frontale e superiore che appunto acquisisce un look più aerodinamico mentre al posteriore troviamo il solito estrattore che permette di far uscire l'aria calda generata all'interno del casco guardando poi gli altri dettagli posso farvi vedere il sistema di chiusura a doppia leva micrometrica che ha delle bandelle di protezione ma anche il sun visor che come vedete è regolabile in cinque posizioni è stato spostato sul profilo inferiore del casco e ha il solito tasto di sgancio immediato veramente di facile risoluzione e soprattutto di facile utilizzo passiamo agli interni partendo da una delle tecnologie ormai più affermate e utilizzate da nolan nella sua gamma di prodotti ovvero la liner positioning control che è una tecnologia brevettata che permette di regolare l'assetto del casco sulla conformazione della nostra testa e che aumenta la vestibilità e la sensazione di un miglior fitting del nostro casco sempre guardando agli interni poi è da segnalare il fatto che le superfici in polistirolo laterali sono state rivestite per avere una migliore aderenza con i guanciali gli interni carbon fitting sono realizzati con tecnologia ai filamenti di carbonio attivo che regola la temperatura delle superfici a contatto con la pelle e soprattutto è un allergico anche la cuffia superiore è dello stesso materiale ma ha una struttura a rete che permette di regolare uniformemente sulla parte superiore della nostra testa l'aria esterna che arriva dalle prese d'aria sempre guardando agli interni si vede come rimuovendo una parte dell'imbottitura si possano posizionare le astine per gli occhiali ma non solo perché il casco può ospitare i sistemi di comunicazione encom che permettono di parlare sì con i propri compagni di viaggio ma anche di ascoltare attraverso la connettività con il proprio telefono le indicazioni del navigatore le nostre playlist o addirittura effettuare chiamate dopo avervelo presentato però mi sembra arrivata l'ora di metterlo alla prova allora dopo un po di chilometri con l'X15 di X-Lite anche per me che di solito prediligo i caschi integrali le sensazioni sono praticamente solo positive e inizio dalla visiera ultra wide che devo dire mi ha proprio soddisfatto perché aumenta di tanto la visibilità periferica e anche nei punti di curvatura non distorce affatto poi il resto è tutto a portata di mano dalle prese d'aria al visierino parasole per non parlare del sistema di apertura frontale dual action e a proposito di sistema dual action devo dire che è facilissimo da azionare bastano due dita e veramente poca pressione e una volta alzata la parte frontale la si può assicurare con il tasto di sicurezza che permette di viaggiare con il vento in faccia senza patire le turbolenze che non è poco capitolo rumore diciamo subito questo non è il casco più silenzioso della gamma X-Lite e alla fine credo che sia giusto così vista la sua conformazione posso dire però che anche con le prese d'aria aperte il flusso che arriva all'interno è contenuto ma efficace mi sono piaciuti molto poi gli interni che anche in giornate come questa permette di limitare le sudate e soprattutto di non avere pruriti e poi la vera conferma è il sistema lpc che permette di assettare il casco sopra la testa di ognuno un particolare che chi ha cambiato più di un casco in vita sua sa che non è affatto scontato parliamo di prezzi e disponibilità X-Lite X-1005 Ultra Carbon è disponibile in 8 taglie e 13 diverse varianti di grafica e colore e il prezzo parte da poco meno di 600 euro per tutti i dettagli però vi rimando alla scheda tecnica che trovate alla fine del video l'avventura è iniziata con e domani continua su omnimoto.it approda su gp1.com per continuare a darvi tutto il meglio dell'informazione motociclistica un team speciale un solo sito un unico motto per tutte le moto gp1.com